Ciao a tutti! Oggi prepareremo la burro birra. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero di canna, burro, panna fresca, acqua, sale, aceto di mele e gassosa ben fredda. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e l'acqua. Lo facciamo sciogliere per cinque minuti, 60 gradi, velocità 3. Adesso aggiungiamo il burro ed azioniamo i bimbi per 40 secondi a velocità 2. Adesso aggiungiamo l'aceto, il mele, il sale ed azioniamo i bimbi per 20 secondi a velocità 2. A questo punto aggiungiamo la panna e facciamo amalgamare per un minuto 60 gradi, velocità 2. Adesso posizioniamo il boccale in frigo per 15-20 minuti finché il composto non sarà ben freddo. Posizioniamo in frigo anche la gassosa. Il composto si è raffreddato. A questo punto aggiungiamo la gassosa bella ghiacciata e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 8. la burro birra è pronta, serviamola subito. Burro birra, grazie e alla prossima ricetta. Burro birra, grazie e alla prossima ricetta. Durro birra, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.